In un mondo di impegni e complicazioni risate di strada una certezza Cosa fa una mozzarella con un gatto? Le fuso Luca, Luca, senti questa che per me è un capolavoro Davide, qual è il piatto preferito dai cantanti pugliesi? Ma le orecchiette le cime di rai Eccomi qua, sono qui con questo signore che sta lavorando, come si chiama lei? Eh, Nicola Nicola, qual è il genere musicale preferito dalle pannocchie? Il popcorn Grande, fantastico Aspetta che lo aiuto che dobbiamo fare un trasloco Ragazze, ragazze, cosa dicono i lavandini quando litigano? Lasciami perdere Luca, Luca, da dove viene il pan grattato? Dal pan prurito Hai capito? Perché ti grattino Tu ci vuoi salutare? Ciao risate di strada Ciao risate di strada Ciao risate di strada Ciao risate di strada Uno